Mi sposto tantissimo e questo mi aiuta sempre con questo processo perché la meditazione, la presenza è fisica, non è una roba mentale, non è una presenza mentale, quando dico presenza mentale, io sono sempre un po' spaventato, la presenza è la temperatura dei vostri piedi in questo momento, non è quello che pensate dei vostri piedi in questo momento, che sembra la stessa roba ma non è proprio la stessa roba e a me serve tanto questa cosa, poi a qualcuno gli do, tra la prescrizione se trovo qualcuno che è particolarmente predisposto gli dico vai a casa, fai 20 respiri al giorno meditativi, ma non è meditazione di per sé, è un esercizio che gli serve per iniziare a scorporare quello che pensa da quello che sente. penso di essere un po' in trance, adesso, ti farei altri 7 milioni di domande ma il tempo è tiranno, però ritorniamo un attimo all'inizio perché tu non fai solo lo psicoterapeuta ma fai anche il divulgatore, però tu vendi anche gli infoprodotti sulla meditazione, hai un gruppo? anche? ho un gruppo di meditazione è un gruppo facebook? sì meditazione, vendevi cose, vendi cose, il mio editore le vende, però io ho questa fortuna di avere un editore che le vende, anche se le vende a mio nome, la gente non lo sa ma la maggior parte dei messaggi che arrivano a mio nome non sono io che li mando, questo mi aiuta molto. fantastico, non so neanche qual è la domanda, però è bello questo perché a me quando un collega mi dice, un ragazzo che è finito ai superiori mi dice mi conviene studiare psicologia perché in Italia un terzo gli psicologi di tutta Europa, un quarto di tutto il mondo, non siamo tanti, io dico se ti piace sì, perché se ti piace ti ingegni e trovi i modi per lavorare, che sono uno, io per te solo clinica, adesso la formazione da qualche anno con la scuola eccetera, però la clinica è la cosa principale, per niente cavolo di voglia mettermi a fare infoprodotti, non ce la posso fare, ma io un domani però ora non ce la posso fare, quindi si può fare anche solo clinica ma si può declinare in tanti altri modi, tu vedi Luca, vedi Jerry, vedi Bernardo eccetera, com'è sta roba? come ti vivi tu? non so qual è la domanda, dimmi qualcosa di questo mondo è bello perché ti dà modo di prendere fiato dalla psicoterapia che è bellissima, credo che non smetterò mai di fare lo psicoterapeuta perché è molto bello, ma è molto più bello se non ne hai bisogno, se non hai bisogno di quel paziente che resti nel tuo studio, che non vada via eccetera, quindi io la vivo molto bene e poi per me è stato un processo molto lungo, nel senso io faccio un corso di PNL nel 2001, nel 2001 il trainer del corso di PNL lei mi dice mi piaci, poi scopro perché mi piaccio, perché non sapeva niente, era una capra era, non sapeva niente, quindi gli serviva uno che conoscesse quelle cose, quindi mi dice vieni a fare i corsi con me, iniziamo a fare i corsi insieme praticamente, quindi a tenere corsi di queste robe qua, mentre teniamo i corsi lui mi dice andiamo a fare un corso in un poliambulatorio nel Mantovano e io conosco la mia prima dattrice di lavoro, la proprietaria di questo poliambulatorio che mi dice guarda io ho dei pazienti, vieni a vederli, io ero appena laureato praticamente, conoscevo solo le tecniche di PNL e io gli dico di sì, ora a parte la sfrontatezza di dire di sì a 26 anni e vedere i pazienti, qualcuno mi diceva oh ma vai fino a Mantova, da casa mia a là sono 166 km a andare, 166 km a tornare, per arrivarci da Padova a là in treno, ciao, tre treni, sono sempre in ritardo, tre ore di viaggio, l'ho fatto per 11 anni, quando qualche giovane mi dice ma guarda che io non ho voglia di andare nel paesino fuori a fare nel poliambulatorio, io penso è per questo che vi lamentate che non c'è lavoro, adesso esagero un pochettino, però è così, io per 11 anni ho fatto 300 chilometri a settimana, non tutti i giorni ma… Se dovessi fare una crasi, oggi mi piace la parola crasi, l'ho usata anche prima, penso che… Questa è la figura retorica che faccio fatica a ricordare… Crasi, se dovessi fare un mix delle due cose, mi dice molto questo concetto, uno seguire quello che ti piace, anche tu però riprendendo quello che ho appena detto, se non ti va di fare gli infrodotti, perché c'è stato un momento in cui dicevo devo fare un infrodotto, tutti, pure Romeo Lippi fa il gruppo in… non so dove è Romeo, lo dovrò fare pure io sto gruppo, no? E invece poi a un certo punto ho detto a me non piace, io non lo faccio, perché l'infrodotto lo sono portato avanti per un anno e mezzo e non l'ho mai fatto, ho detto non mi piace, a me non piace fare l'infrodotto, se devo guadagnare i soldi dovrò trovarlo in un altro modo, fare se non vuole mi piace. Aggiungendolo al… quello che appena hai detto tu, ti devi sacrificare con te stesso, con la vita, cioè nel senso devi farti tre ore di treno per undici anni, ma è ovvio che se ti fai tre ore di treno per undici anni è perché fai una cosa che ti piace… Poi ci andavo in macchina… Ah in macchina, ok perché treno c'è… Però andare qua, piccola postilla, per andare nel Mantovano, Rivarolo Mantovano, con la macchina significa che su 50 volte che ci andavo all'anno, 40 una nebbia che non si vede da qui a lì, ok, quindi sensi da ragno… Io penso che andassi in treno e mi tornava tutto il discorso dello studio della meditazione, perché cazzo fai in treno… Un anno in treno poi sono passato alla macchina… Ok, però l'idea del… non è così, Luca dice, Mazzucca lì dice, devi ragionare da maratoneta, non da centometristi, se vuoi tutto è subito, non avremmo una scuola di specializzazione. Ok, 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 ti faccio l'ultima domanda, l'unica domanda l'hai sentita prima strutturata. Immagina che hai degli psicologi che ti ascoltano e gli vuoi dare un consiglio su un esercizio da fare nella vita quotidiana, una strategia da mettere in atto, un compito, che gli possa tornare utile all'interno della psicoterapia. Quindi fai questa cosa nella vita quotidiana perché ti permetterà di allenare una tua capacità, di raggiungere un livello utile poi nella psicoterapia. Qual è l'esercizio? Imparare ad ascoltare. Ok. Come lo dovrebbero fare nella… Tipo, quando il tuo amico ti parla e tu ti stai rompendo le balle, dopo quanto tempo ti rompi le balle? Ok? Forzati ad ascoltarlo. Forzati a mettere da parte quello che vorresti dirgli. Forzati a non dirgli come la pensi. Forzati a non dargli consigli. Forzati a non cercare di cambiarlo. Ascoltalo. Perché molte volte il semplice ascolto provoca un cambiamento. questo è superficiente anche perché, sai, qualche giorno fa stavo in giro con una persona, un amico, però ha parlato solo lui e solo di sé. Era molto frustrante, no? Perché… Cioè ero lì con lui e io non potevo dire niente. C'era solo lui. E ci scordiamo come questa relazione, questa relazione, quella relazione non è molto diversa la relazione che tu hai con i clienti, no? Se non sei in grado di… mettiamola in positivo, se alleni la tua capacità di ascoltare fuori è una cosa che ti porti dentro. Non è molto speciale la relazione che hai col cliente. La relazione è la cosa più importante in psicoterapia, la relazione è la cosa più importante in qualunque professione. Quindi allenati ad ascoltare, non metterti a dare i tuoi giudizi e le tue categorie. Ascolta. Bello. che non è… Grazie. 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 Grazie.